Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. E' con grande piacere e onore che celebriamo oggi, commemoriamo oggi, la grande Carla Fracci, scomparsa di recente. Dico celebriamo, commemoriamo, non in senso triste, drammatico, ma in senso gioioso, perché io penso che chi ha avuto una vita come la sua, dove ha realizzato tutto ciò che poteva realizzare, dove ha espresso il massimo di sé, chiunque raggiunga una vita di questo tipo, non può essere tristemente ricordato, ma felicemente, gioiosamente ricordato. E non solo perché naturalmente l'arte è eterna, ma anche perché veramente il massimo raggiungimento, la massima espressione di sé è ciò che è il traguardo definitivo, il compimento di ogni biografia. E chi riesce a tagliare quel traguardo non può che essere celebrato e ricordato come esempio. E' un esempio, Carla Fracci lo è stata e lo è e lo sarà per tutte le generazioni. Ed è importante ancora di più continuare in futuro a non dimenticare la sua lezione, ma a ricordarla, a continuamente commemorarla e soprattutto a ricordare quello che è stato il valore della persona e quello che ci ha trasmesso. Perché a tutti gli effetti Carla Fracci è una campionessa di crescita personale, incarna perfettamente il tipo ideale, cioè il vero tipo di colui, colei, che inizia il suo percorso da un livello iniziale in cui le opportunità favorevoli e gli elementi a disposizione per avere un percorso agiato facile non vi sono, ma attraverso il proprio lavoro, attraverso la determinazione, il talento, la continua ricerca di miglioramento, la continua perseveranza, il superamento degli ostacoli, il porsi nuovi obiettivi, il restare concentrati, il restare determinati a proseguire, nonostante i fallimenti, nonostante la fatica, nonostante anche gli insuccessi temporanei, proseguire, cadere e rialzarsi. E nel caso di Carla Fracci, cadere, rialzarsi e volare. Ecco in più quella leggerezza che non dimenticheremo mai, vorrei che restasse oggi nella nostra felice, gioiosa commemorazione come elemento in più, come quel quid in più che ci può dare Carla Fracci sopra tutti gli altri. Proprio la leggerezza del volare oltre gli ostacoli, del volare, leggeri, leggerissimi, sulle ali della propria vita. Se vi è un'espressione plastica del concetto di Platone, della seconda navigazione, la navigazione nel mare immenso, nell'oceano immenso delle idee, io dico del puro spirito, sicuramente non vi è immagine più efficace nella danza di Carla Fracci. Alcuni esempi, cinque per la precisione, che sono cinque lezioni di Carla Fracci, che riassumono sinteticamente, in maniera molto bella, quel valore che oggi celebriamo, quell'esempio che vogliamo continuare a ricordare e soprattutto a seguire. Prima citazione, prima lezione. La danza non è piedi e gambe, è testa. Usare la testa. Come sentite, non è questione di maschi o femmine. La testa ce l'abbiamo tutti e non ha distinzione di genere. Bisogna usarla. E anche in questo caso non si tratta di una distinzione di genere. Non la usano né gli uomini, né le donne. E possono usarla sia gli uomini che le donne. Seconda lezione, quella del coraggio. Racconta Carla Fracci. Una volta Rudolf Nureyev doveva fare il suo difficilissimo schiaccianoci e pretese che io danzassi con lui. Ma avevo appena cinque giorni per imparare quella coreografia impossibile, freudiana. Mi diedero un video da studiare. Così, la ferma. E io replicai con un voi siete matti, ben decisa a rifiutare. Ma Nureyev non volle sentire storie. In due giorni mi insegnò i passi e al quarto ero già in tutu alla prova generale. Prima del debutto mi strinse la mano. E alla fine, mentre tutti applaudivano in piedi, mi sussurrò ecco che cosa vuol dire avere coraggio. Terza lezione, quella della tenacia, della determinazione. Dice Carla Fracci. La danza è una carriera misteriosa che rappresenta un mondo imprevedibile ed imprendibile. Le qualità necessarie sono tante. Non basta soltanto il talento. È necessario affiancare alla grande vocazione la tenacia, la determinazione, la disciplina, la costanza. Ecco, lo vorrei questo ricordare soprattutto a coloro che oggi pensano che sia tutto facile e che sia tutto dovuto. La disciplina. Sentite questo concetto marziale che è un po' spaventa, ma che se diventa autodisciplina diventa il percorso esatto della realizzazione, del conseguimento del successo. Perché disciplina vuol dire lavorare, lavorare, lavorare. Ecco il quarto insegnamento. In tanti mi hanno chiesto come ci si sente a essere un mito. Ma i miei genitori che erano dei lavoratori, mio padre era tranviere, mia madre era operaia. I miei genitori mi hanno insegnato che il successo ce lo si deve guadagnare. E io me lo sono guadagnato perché ho lavorato, lavorato, lavorato. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi. Affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. a domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. a domani per un'altra dose di nuova di nuova